Le poesie del nostro legano tradizione e modernità nella potenza e intensità dei versi, da un lato si percepisce la volontà di restare fedeli ai principi del buddismo zen, dall'altro quella di adattare, in un certo senso, questi principi a quelli di un paese moderno, una delle quattro tigri d'Oriente, dove i ritmi di vita sono frenetici. Dalla nota di Laura Garavaglia